Salve le borse di studio per gli studenti e abruzzesi. Negli ultimi mesi la faccenda è stata caratterizzata da diverse polemiche prese di posizioni da parte delle associazioni studentesche. Saranno erogate intanto 1.512 borse di studio con la regione che attraverso l'assessore Quaresimale ha trovato i fondi. Oggi all'azienda al diritto degli studi universitari c'è stata la visita del deputato e segretario nazionale della Lega Giovani per affrontare con la presidente Morgante la questione borse di studio e finanziamenti per diritto allo studio. Ci sono dei problemi che dobbiamo assolutamente risolvere quindi sono venuto anche per dare la mia massima disponibilità come membro della Commissione Settima della Camera Istruzione Università ma soprattutto come parte di questa maggioranza governativa per risolvere la questione appunto di un eventuale sfratto nel 2023 e una progettualità che purtroppo tarda ad arrivare ma che sta finalmente prendendo piede grazie al nuovo CDA e alla nuova Presidente. Noi ci siamo siamo a disposizione chiaramente degli studenti dell'Aquila che già hanno sofferto troppo nel 2009 a causa chiaramente purtroppo del terremoto hanno sofferto tanto durante questa pandemia e giustamente si meritano di poter usufruire anche di una struttura nel centro della città visto che ricordiamolo l'Aquila è una città che giustamente vive anche di studenti universitari. Nella visita istituzionale a Lazio Luca Toccalini è stato accompagnato da Luigi Deramo segretario regionale deputato, da Emanuele Imprudente vicepresidente dell'Aggiunta regionale, da Liana Morgante presidente dell'Azzo dell'Aquila e da Francesco De Santis capogruppo in consiglio comunale e consigliere provinciale. L'Azzo non lascerà nessuno studente per strada assicurato la presidente Morgante ma la convenzione per la Campomizi terminerà nel 2023 ed è difficile che per quella data sia pronta la nuova casa dello studente in Viale Duca degli Abruzzi. Per il momento è scongiurata la chiusura della residenza che ospita pochi studenti a causa del Covid sostiene la Morgante. Possiamo dare la notizia già alla stampa dell'erogazione di tutte le borse di studio 1512, tutti gli studenti utilmente collocati nella graduatoria saranno liquidati e per quanto riguarda il futuro ci stiamo attivando per evitare proprio che possa realizzarsi quello che era stato paventato. Noi non lasceremo i ragazzi in mezzo a una strada, lo abbiamo fatto quest'anno con il Covid erogando i servizi ad una popolazione scolastica, studentesca molto ridotta rispetto a quella precedente.